Ciao a tutti fringuelli, vi ricordate che cosa è accaduto all'inizio del 2020? Sembra passato tantissimo tempo, non sto parlando del lockdown, non sto parlando del covid, sto parlando di una cosa che è accaduta in casa Strava, ovvero Strava ad inizio 2020 ha tolto la connessione bluetooth dalla sua applicazione per smartphone perché molti utenti lamentavano un problema di connessione tra ad esempio una fascia cardio e l'applicazione Strava. Questo portava a un blocco totale proprio allo spengimento dell'applicazione, entrava in conflitto con la trasmissione dati. Bene Strava ha provato a rimediare a questo bug, a questo errore, non ci è riuscita e quindi per evitare che la sua applicazione non venisse più utilizzata ha deciso di sospendere momentaneamente la trasmissione di dati bluetooth tra l'applicazione Strava ed altri dispositivi come ad esempio un cardiofrequenzimetro. Se da un lato ha reso più stabile l'applicazione dall'altro ha reso molto scontenti i suoi utilizzatori che non volevano utilizzare dispositivi di terze parti come smart watch o meglio sport watch o sport tracker. In sostanza se avevi un dispositivo cardiofrequenzimetro per monitorare la tua attività dovevi per forza di cose abbinare Strava ad un terzo dispositivo in questo caso uno sport watch uno sport tracker per poter utilizzare con Strava il cardiofrequenzimetro. Questo come dicevo prima ha generato molto malcontento tant'è che oggi Strava ha creato una versione beta e una nuova versione della sua applicazione per smartphone per cercare di recuperare la trasmissione dati bluetooth. È ancora in versione di prova alcuni utenti i più fortunati hanno la possibilità di provare Strava con la trasmissione dati bluetooth e quindi ricollegare tutti ma proprio tutti i dispositivi non soltanto cardiofrequenzimetro, misuratore di potenza e quant'altro senza utilizzare altre terze parti. Questo perché è stato fatto? Perché obbligare un utente Strava a comprare un dispositivo sport watch o sport tracker che costano veramente tanto per poter utilizzare tutti i dispositivi tutti i device bluetooth è a mio avviso uno sbaglio commerciale e anche di comunicazione quindi per evitare che gli utenti di Strava migrino verso altre applicazioni che invece hanno una trasmissione dati bluetooth stabili Strava adesso ci sta ripensando quindi aspettatevi da qui alla fine del 2020 o all'inizio del 2021 che Strava riabiliti la sua trasmissione dati bluetooth. Insomma ragazzi come vedete Strava sta correndo ai ripari ancora qualche settimana e forse sapremo se hanno risolto e me lo auguro i problemi di trasmissione dati bluetooth oppure no. Staremo a vedere ad ogni modo noi ci vediamo al prossimo video buon allenamento alla prossima ciao